Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Monica Pelliccia. Coda per incidente tra Montopoli-Valdarno e San Miniato e coda tra lo svincolo di Empoli e Montelupo per lavori. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra, con restringimenti. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!